E il governo ha varato ieri il nuovo decreto sull'utilizzo del Green Pass, al centro del documento ci sono questa volta scuola e trasporti, ma arrivano novità anche su San Marino e sul costo dei tamponi. Vediamo. Nel giorno in cui entrano in vigore i primi obblighi di Green Pass, il governo ha messo in fila alcuni aspetti fondamentali relativi a scuola e trasporti che scatteranno dal mese di settembre. Novità positive invece per quel che riguarda San Marino. Una disposizione che sarà valida fino al 15 d'ottobre, che consentirà l'esenzione, così come ci sono esenzioni per altre ragioni, ci sarà un'esenzione per i cittadini di San Marino che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino. Questo non significa riconoscere il vaccino Sputnik. La nostra è una soluzione di natura transitoria che tiene conto di questa specificità di San Marino e che consentirà in questo tempo congruo una ulteriore valutazione sia all'EMA e sia alle autorità di San Marino rispetto ad eventuali utilizzi anche di altri vaccini. Sulla scuola il governo precisa con forza che il prossimo anno scolastico l'attività didattica sarà svolta in presenza. Per farlo, la novità è l'introduzione del Green Pass obbligatorio per il personale scolastico e universitario e anche per gli studenti universitari. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e dal quinto giorno comporta la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione. Confermato l'obbligo della mascherina dai sei anni in su, con deroghe se all'attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. Alla voce trasporti, dal primo settembre Green Pass obbligatorio su navi e targhetti interregionali ad esclusione dello stretto di Messina, sugli aerei, sui treni intercity ad alta velocità, sugli autobus che collegano più di due regioni. Nessun obbligo invece per il trasporto pubblico locale e i treni regionali. La capienza dei mezzi di trasporto sale dal 50 all'80% in zona bianca e gialla. Niente Green Pass per i clienti che devono accedere ai ristoranti interni delle strutture alberghiere. Siglato poi un accordo con i farmacisti per il costo dei tamponi rapidi, 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, 15 per tutti gli altri. E proprio ieri sera, nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle nuove norme sull'uso del Green Pass e alla vigilia dell'introduzione dell'obbligatorietà del certificato, in tanti arimini hanno partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dal Comitato Fronte Unito Romagna per la Costituzione. Importante l'affluenza con svariate centinaia di persone che al grido di libertà libertà e mostrando cartelli contro il Green Pass si sono ritrovate in piazza Tre Martire e sono poi partite in corteo, autorizzato, verso la zona mare per poi arrivare in piazza Le Fellini. Presente anche il candidato sindaco del movimento 3V Matteo Angelini. Nuove manifestazioni sono state annunciate anche per i prossimi giorni a partire proprio dal pomeriggio di domani. Le imprese riminesi reagiscono alla crisi, migliora il saldo tra iscrizioni e cessazioni con numeri che si avvicinano a quelli pre-Covid, numeri positivi ma avverte la Camera di Commercio da prendere con le molle. Vediamo. I dati economici del secondo trimestre 2021 indicano nel riminese un'accelerazione nelle aperture di nuove attività che fa ipotizzare un ritorno abbastanza rapido ai valori pre-pandemia. Le imprese attive al 30 giugno sono 34.489. L'imprenditorialità si conferma particolarmente diffusa con 103 attività aperte ogni 1000 abitanti contro le 90 a livello regionale. Positivo di 311 unità il saldo tra iscrizioni e cancellazioni con un aumento di quasi 200 rispetto allo scorso anno e un tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate migliore di quello regionale e nazionale. In termini assoluti le iscrizioni sono tornate al livello medio del triennio 2017-2019 mentre le cancellazioni sono inferiori del 14%. Il tasso di natalità delle imprese è di 16,3 anche in questo caso superiore ai valori regionali e nazionali. Il tasso di mortalità cioè il numero di cancellazioni per 1000 imprese registrate è invece di 8,5. Nel confronto col secondo trimestre 2020 si riscontra una crescita delle imprese attive dell'1,2% con picchiariccione più 2% nelle zone montane più 2,4% ed aree più in stallo come il basso Conca più 0,9%. Nel capoluogo la crescita è stata invece dell'1,3%. Tra i principali settori economici segnano un buon aumento le costruzioni più 2,4%, allogge e ristorazione più 1,4% e le attività immobiliari più 2,1%. Stabile il commercio e i servizi alla persona mentre sono in lieve calo il settore manifatturiero e quello agricolo. Con riferimento alla natura giuridica un'impresa su due è individuale ma le società di capitale continuano a crescere a ritmo sostenuto e sono arrivate al 22%. Numeri positivi ma serve ancora cautela. La demografia è una variabile lenta, spiega il presidente della Camera di Commercio della Romagna Alberto Zambianchi, soprattutto grazie alla grande capacità di resistenza e di resilienza dei nostri imprenditori. Effetti negativi della pandemia, aggiunge, si manifesteranno inequivocabilmente solo in futuro quando si saranno esaurite anche le misure di sostegno. Rimini resta in corsa per ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. La città ha infatti superato il primo screening che ha ridotto da 17 ad 11 le candidate ad ospitare l'evento che tocca l'Italia dopo la vittoria dei Maneskin nell'edizione di quest'anno. Delle candidate Emiliano Romagnole restano Rimini e Bologna. Ci sono poi a Cireale, Alessandria, Genova, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Roma, Sanremo e Turino in Lizza. Entro la fine di agosto la RAI, emittente organizzatrice dell'evento, dovrebbe sciogliere le riserve sulla città che verrà definitivamente scelta. E siamo adesso al calcio, prosegue la campagna acquisti del Rimini, tra l'altro un Rimini che domenica partirà per il ritiro. Oggi si aggiungono tasselli sia all'attacco che alla difesa. A vestire il bianco-rosso sarà il 27enne Gianmarco Gabbianelli, attaccante esterno Mancino, cresciuto nel settore giovanile del Rimini e poi passato a quello dell'Inter. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della stagione dell'Albino Leffe, andando in rete anche nella semifinale play-off di Lega Pro. In difesa arriva invece l'esterno sinistro Kevin Averi, ventenne, albanese, che ha vestito la maglia del Mantua, vincendo un campionato di Serie D e successivamente quella del Campo d'Arsego. È stato anche nazionale albanese, Under-17 e Under-19. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo come sempre tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsremini.it, mentre per quanto riguarda questo telegiornale, così come tutte le produzioni del gruppo Icaro, lo potete trovare e rivedere sulla app Icaro Play. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie.